Carissimi amici, buongiorno a tutti. Leggo anche tanto dolore a volte nelle vostre comunicazioni, nelle vostre mail. Dolori che spesso sono dovuti ad episodi molto brutti della vita, come possono essere dei lutti familiari, un muro di qualcuno a cui noi teniamo particolarmente, oppure alla fine di una storia, di un amore, di un matrimonio. E quindi a questo punto questa elaborazione, diciamo, del lutto, della fine, provoca un dolore dal quale parecchi non riescono ad uscire fuori. Questa è una cosa che mi dispiace. Perciò che ho buttato giù due appunti, perché vi devo dire qualcosa di importante. Perché non è giusto. Io vorrei dare un mio piccolo contributo. Non è giusto che alcuni restino imprigionati con questo dolore dell'abbandono. Perché se noi ci chiediamo, se siamo felici, se ce lo chiediamo, molti rispondono perché non siamo bene in questa realtà, in questa società, perché siamo sfortunati, perché non ci va niente bene. Invece dovremmo dovremmo spostare l'attenzione sul fatto che la felicità dipende essenzialmente da noi stessi. Noi siamo troppo abituati a ditare gli altri, dire per colpa di questa situazione non ci posso fare niente. Vedete, voglio fare un esempio, ci sono questi saggi indiani, questi saggi tibetani, buddhisti, che fanno una cosa molto particolare. Fanno i cosiddetti mandala. Questi mandala sono dei grossi disegni, diciamo, di forma circolare, fatti con della sabbia colorata. Ma sono di una complessità incredibile, di una pazienza certosina per fare, no? Vedete questi saggi che mettono mesi, anche mesi e mesi, per fare queste composizioni di sabbia colorata, che sono poi bellissimi, no? Diciamo che è un esercizio di pazienza, di concentrazione. Voi sapete che cosa succede? Succede che una volta fatti, essi o con un gesto delle mani distruggono questa grande bellezza oppure la lasciano lì all'intemperio, perché essendo fatta di sabbia viene distrutto, diciamo, dal vento. Perché fanno questi? Perché fanno questa cosa? Per significare che nella vita nulla è permanente. nulla è per sempre. E allora, noi, è vero che quando abbiamo una storia, un matrimonio, una relazione di qualsiasi tipo, anche amicale, dobbiamo pensare che sia per tanto tempo, forse per tutta la vita, ma nello stesso tempo dobbiamo pensare che può terminare. Questo fatto di che una cosa può terminare fa la differenza. per cui, anche quando scomparre un nostro affetto, affetto familiare, noi dobbiamo pensare alla rinascita. Bene sì, alla rinascita. Una rinascita magari proprio nel nome, nel nome di chi ci ha voluto bene. non è che noi restiamo nel dolore di chi ci ha voluto bene. No. Dobbiamo rinascere nel nome di chi ci ha voluto bene. Perché la infelicità si fortifica quando noi rimaniamo attaccati, attaccati a quello che non c'è più. lo so che non è facile, però la cosa che ci conforta è che non c'è alternativa. Dobbiamo per forza fare in questo modo. La nostra vita, vedete, è come se fosse un mandala di cui vi ho parlato. Come se fosse un mandala. Noi la possiamo cercare di fare così bella, colorata, no? Tutto costruito, un matrimonio, un lavoro, eccetera eccetera. Però poi dobbiamo tenere presente che all'improvviso con un gesto di questo mandala può essere cancellato. E questa instabilità della nostra vita è la base della felicità. Non può essere la base dell'infelicità. Perché la vita è un continuo divenire. Certo sarebbe bello che fosse un divenire di cose belle, di cose divertenti, di cose che ci fanno stare bene. No, è un continuo divenire. Noi non sappiamo nemmeno. Però proprio in questa instabilità c'è il segreto. E ecco perché noi non ci dobbiamo, non dobbiamo vivere in proiezione di chi ci sta intorno, degli altri, ma dobbiamo fidarci di noi. Perché una mente che si attacca al passato diventa una mente non libera, non creativa. La nostra mente si fossilizza. E quindi finiamo per essere schiavi dei ricordi passati, schiavi di rancori, di odio, oppure di pensamenti per le storie, per gli amori finiti, o magari pieni di tristezza, quella tristezza costante per un lutto familiare, per una persona, un genitore, qualcuno che ci ha voluto bene. Però non pensiamo, vedete, non riusciamo a pensare che la nostra felicità è l'unico regalo, l'unico regalo che possiamo fare alle persone che ci hanno voluto bene. Perché chi ci ha voluto bene avrebbe voluto la nostra felicità. E la nostra felicità è l'unico regalo che possiamo fare alle persone che ci hanno voluto bene. Quindi dobbiamo non vivere di abitudini, di cose che uno si alza, mangia, dorme, cercare invece il nuovo, il bello, l'incerto, o se devi dire. Noi vorremmo tutti delle cose eterne, fisse, belle, costanti, però questi ci danno una falsa sicurezza. Ogni volta che noi mettiamo aspettativa al 100% su una cosa è una falsa sicurezza. Tanta gente si blocca nel suo cammino dopo la fine di qualcosa è questo blocco che non ci deve essere. Questo dolore, il dolore, ecco una cosa importante, perché compare il dolore? Il dolore, questo dolore che ci attanaglia, ci accompagna per tanto tempo. Che cos'è il dolore? Il dolore è un sintomo che ci indica di dover lasciare una situazione statica che non può cambiare. Il dolore è un sintomo che deve essere guardato, accettato e lasciato. Perché man mano che ci dirigiamo in una situazione nuova, dettata da quello che noi sentiamo, dal nostro sé, il dolore va svanendo. Va svanendo però noi dobbiamo essere disposti, disponibili al cambiamento, ad accettare il nuovo. Vi ripeto, proprio nel nome di chi ci ha voluto bene. Si rinasce piano piano e bisogna avere fiducia in noi. Attenzione poi ai medicinali. Ecco, attenzione ai medicinali. I medicinali che ci prendiamo a volte, gli ansiolitici, ci riempiamo di pasticche, sono scorciatoie inutili. Attenzione a queste, come voler fermare un po' il mare con le mani. Sono palliativi, non prendete troppi medicinali, non risolvono nulla. Magari ci stordiscono, ci addormentano, non è quello il modo per risolvere il dolore, per andare avanti. Il dolore di un abbandono, di un lutto, deve essere accolto, amici miei. Deve fare il suo percorso, la sua funzione, però poi bisogna andare avanti, bisogna cercare il nuovo, il bello, bisogna andare avanti. Non come vogliono gli altri che ci compiatiscono, che ci criticano, ci criticano pure, però bisogna ascoltare la nostra anima interiore. Vedete, anche in questo periodo, questo periodo particolare, questo lungo periodo che tutti noi stiamo attraversando, di crisi, magari anche crisi del lavoro, sicuramente, anche nei rapporti familiari, sono aumentati i litigi, le cose, però, se noi andiamo ad analizzare bene, questo lungo periodo, circa due anni che stiamo vivendo, questa cosa così sconvolgente, tanto ci ha tolto, però, abbiamo imparato, impariamo a vedere il problema anche da un altro punto di vista, perché questo periodo ci ha insegnato che tante cose ad esempio sono superflue, abbiamo dovuto rinunciare a tante cose che poi sono superflue, sono tante cose che noi facevamo così, ma di cui potevamo fare a meno, abbiamo anche selezionato delle amicizie, sicuramente, amici più autentici dagli amici falsi o di convenienza, anche quello abbiamo selezionato, abbiamo dato valore a certe cose che due anni fa non davamo valore, quindi vediamo anche gli aspetti di arricchimento che abbiamo avuto, ciò che cosa quindi ci fa capire, cari amici, cosa ci fa capire tutto questo? Che la felicità non può dipendere da fatti esterni, non ci sarà nessuno che bussa alla porta e ci porta un pacco di felicità, non ce la dobbiamo aspettare da qualcuno che ce la porti su un piatto d'argento che dice ecco qui ti do due chili di felicità, questo no, perché quello che avviene è sempre un fatto volubile, la felicità dipende da noi, se noi non riusciamo a capire che questo è un passaggio essenziale, la felicità dipende da te stesso, dal nostro interno, dal fatto che noi non ci dobbiamo bloccare e se questo vento, questa tempesta, queste tempeste che vengono nella nostra vita ogni tanto distruggono il nostro mandala, il nostro disegno di sabbia colorata, se il dispiacere della vita distruggono ogni tanto questo mandala, noi ne cominciamo a costruire un altro e poi un altro ancora più bello, più colorato ancora perché questo è il modo di vivere in contatto con noi stessi con il nostro sé perché il nostro sé ci crea ogni giorno è tutto ciò che sta intorno noi dobbiamo prendere quello che viene quello che ci dice il nostro sé il nostro istinto quello che sta intorno non risolve i nostri problemi quindi l'alternativa al dolore che ci ingabbia siamo noi stessi quindi accogliendo il dolore e ripartendo da noi stessi è l'unica alternativa niente è eterno quindi accogliamo tutti i dolori tutto ciò che finisce nella vita e ripartiamo da noi stessi non è facile mi dite vero certo ma la cosa che ci comporta sapete qual è non ci sono alternative alternativa al bello alla ricerca del colore alla ricerca di noi stessi non c'è alternativa la soluzione alla fine siamo sempre noi quindi qualsiasi dolore qualsiasi fine di rapporto di lavoro di matrimonio anche un lutto anche grave dopo un primo momento che deve essere elaborato guardato poi dopo deve essere superato restando in ascolto di noi stessi e cercando le novità il bello cercando di costruire il nostro mandala pieno di colore a qualsiasi età amici a qualsiasi età grazie un abbraccio a tutti alla prossima